Oggi un video diverso dal solito, vuole essere solo una sorta di avviso. Da tempo ormai non sto più pubblicando sul canale, purtroppo nella mia vita sono accaduti degli eventi che mi stanno veramente impedendo di registrare, spero però di poter proseguire in seguito. Per il momento sfortunatamente non sono in grado di fare né previsioni né progetti, comunque lo spero davvero. Nel frattempo se magari mi avete conosciuta da poco potete guardare tantissimi video, sono veramente centinaia, che ho pubblicato nel tempo e li trovate suddivisi in come playlist tematiche. Per ora non mi resta che salutarvi e augurarvi buona visione.